Il 19 dicembre, per il secondo anno consecutivo alla foresta natalizia, si è tenuta l'asta di beneficenza a favore dell'Associazione Alto Adige Aiuta. Cellina von Manstein e Margherita Fuchs von Manstein hanno fatto gli onori di casa di fronte alle numerose personalità ospiti alla foresta natalizia. La foresta natalizia è molto molto speciale, si deve respirare e poi dopo si capisce subito com'è. Aiutare vuol dire che ci sono tanta gente che oggi hanno bisogno, allora per noi è molto importante di poter aiutare. Siamo qui in Alto Adige, siamo tutti bene, però non possiamo stare tutti bene, perciò è molto importante darsi da fare. 24 personaggi di spicco della nostra provincia, durante il periodo dell'Avvento, hanno fatto visita alla foresta natalizia ed hanno lasciato degli oggetti destinati ad essere battuti all'asta. Michel Gamper, noto conduttore dell'emittente a Radio Tirol, ha svolto il ruolo di moderatore dell'asta benefica e ha sapientemente invitato gli ospiti a rilanciare le offerte. Il momento clou della serata è stata l'insolita passerella nella foresta natalizia di un bel puledrino proveniente dall'allevamento del cantante dei mitici passerotti Norbert Rier, uno dei pezzi più pagati dell'asta benefica, venduto a 3.500 euro. Incredibilmente sono stati stasera 37.000 euro, l'anno scorso abbiamo fatto di meno, erano anche tanti, 25.000, però questa volta vogliamo dare 25.000 all'associazione Non scordate di me, che aiuta persone che hanno dimensi che vivono in altre age che hanno bisogno. E adesso vogliamo dare assolutamente l'aiuto, perché ci sono tanta gente che hanno bisogno, allora ci fa piacere che possiamo dare anche per altre cose, bisogni. Dopo che i 24 oggetti sono stati battuti all'asta, altri illustri ospiti sono saliti sul palco e danno spontaneamente messo a disposizione dei loro oggetti personali per l'asta di beneficenza. Devo dire che non trovo le parole, rimango senza, perché ogni tanto mi capita magari che perdo una lacrima, perché mi dà molta gioia, è importante poter irritare. Mancano le parole, è troppo bello, troppo bello per dire com'è la sensazione. Anche quest'anno l'importante asta di beneficenza a favore dell'associazione Alto Adige Aiuta, tenutasi presso la foresta natalizia, è stata un grande successo.